Non è bastato il ritorno al 4-4-2 all'Albino Lenze per portare via dei punti da Piacenza. I nemigli e i seriani si sono imbattuti nel terzo K.O. consecutivo. Sì, terza sconfitta che non ci voleva proprio contro una diretta rivale per la salvezza. Niente, come l'ho vista, secondo me non abbiamo disputato una brutta partita. È un periodo che ci gira male, non riusciamo a concretizzare. È la prima volta che vengono su e ci fanno gol. Però non la vedo una partita negativa, anzi, perché comunque abbiamo creato tanto. È un periodo così e dobbiamo cercare di invertire la rotta già da sabato. Una partita di nuovo fondamentale per la salvezza e stavolta però dobbiamo portare a casa i tre punti. Si è esaurito il bonus che i ragazzi della Celeste si erano guadagnati con cinque vittorie di fila? Ancora no, perché comunque con quelle cinque vittorie ci siamo rialzati tanto. Avevamo un buon margine sulle dirette avversarie per la salvezza. Adesso il distacco si è ridotto ulteriormente. Adesso abbiamo tre partite fondamentali, difficili e dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti naturalmente. Però per dirti anche a Crotone l'importante è non perdere. Sì, sarebbe meglio fare qualche gol in più, però personalmente penso che dobbiamo dare di più tutti. Io per primo, come tutta la squadra, perché dobbiamo toglierci da questa situazione. Io per primo, come tutta la squadra, perché dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti naturalmente.